E quindi così ci sintonizziamo con Dio, con il creatore, con Dio unico, con il creatore attraverso l'elemento della fede piena, diciamo così. E noi guardiamo davanti a noi e lo vediamo di fronte. E quindi quando ci sintonizziamo con lui attraverso l'elemento della fede assoluta, della fede piena, allora noi vediamo la sua benedizione che ci arriva, il suo amore che ci arriva. E noi per l'elemento della fede, per l'elemento della fede piena, per l'elemento della fede piena. E l'elemento della fede piena, per l'elemento della fede piena, per l'elemento della fede piena. Per esempio, noi di fronte, davanti a noi, vediamo il creatore, vediamo l'amore e la benedizione che lui ci manda. Quindi l'amore e la benedizione che ci arrivano e quindi quando ci arriva questa luce la lasciamo entrare dentro e dentro di noi troviamo la stessa luce. Quindi lo stesso amore e la stessa benedizione, quindi così troviamo la luce anche all'interno del nostro corpo. Quando noi vediamo il creatore davanti a noi stessi, quindi la sua immagine ci dà un calore particolare, una sensazione, diciamo così, di benedizione. benedizione. Così noi oggettiviamo il creatore, la sua essenza, noi lo sentiamo e sentiamo anche che lo amiamo, quindi lo amiamo. E se uscita un'uomo di risposta, ma solo si incontrano il creatore, che anche noi ci si riusciamo al creatore, che in generale noi possiamo sentire che lui ha tutte le risposte, tutte le soluzioni. e ci dà il supporto pieno, ci dà sempre la risposta, diciamo così, completa quando ci sintonizziamo con lui. Per qualsiasi situazione che a uno sembra molto difficile, impossibile da risolvere, noi vediamo che il creatore dà sempre la soluzione assoluta e assolutamente corretta, diciamo così, perfetta. Ad esempio, ora il nostro compito principale è non permettere a una possibile catastrofe globale di succedere. Noi dobbiamo unire tutti i paesi del mondo per neutralizzare qualsiasi tipo d'arma per eliminare anche le cause dell'utilizzo delle armi. Noi dobbiamo unire tutti i paesi del mondo per lo sviluppo eterno, edificante e felice di ogni persona. Così che alla fine tutti i paesi del mondo si uniranno e firmeranno quindi il patto sulla risoluzione pacifica dei conflitti. Sauvante c'è questa scelta, vediamo il nostro cor culturale, edificio Azzeguoto dà l'automo, ainserano un'immagine, riuviamo, ad esempio, fatti questo il corretto il corretto del corretto del corretto il corretto del corretto dell'automo, ad esempio, che es venire sposti ad aver sensato il corretto del corretto di risoluzione. attività reale e riuscire in reale no metodo prima in video optiche vi distriata e quindi per esempio quando noi non guardiamo il creatore davanti a noi vediamo che lui ci manda la luce e questa luce ci arriva come se arrivasse attraverso un canale luminoso quindi ci arriva la sua benedizione il suo amore e noi troviamo anche guardando guardando a lui pensando per esempio a un problema che abbiamo anche questo compito per esempio della salvezza globale noi troviamo sempre la soluzione quindi ci arriva sempre la soluzione la risposta piena e quindi questo contatto del creatore sull'elemento della piena fede e anche dell'amore pieno